Ben tornati a Radio Design, la radio dell'Istituto Italiano di Design, questa sera in vetrina durante Umbria Jets, mentre tutti si divertono, noi facciamo cose serie, Eli. Beh, insomma, la puntata di oggi ha ben poco a che fare con la serietà, diciamocela tutta. Perché Elisabetta? Perché oggi andiamo a toccare un tema scottante, diciamo, un'opera che ha fatto molto parlare, di cui io avrei preferito non parlare, però bisognava parlare anche di questo. Ho fatto parlare tre volte, benissimo. Ecco, si parla, giusto per dirlo una quarta volta, della merda d'artista, della merda d'artista. Bene, è una cosa che interessa un po' tutti, anche per come è andato a finire il finale dei mondiali, eccetera, eccetera. Non c'è nessun nesso, però volevo buttarlo lì. Per contestualizzare la serata, benissimo. Ebbene, possiamo partire a parlarne, direi. Prego, prego. Ecco fatto. Allora, la merda d'artista. Sì. La merda d'artista è un'opera post-dadaista, e non solo perché fa rima, ma anche perché è vero. Un'opera post-dadaista che è stata prodotta dal buon Piero Manzoni. Piero Manzoni. Un genio, un genio, se regno. Che non è parente del Manzoni, dei promessi sposi, spero. Sarebbe clamoroso, sarebbe clamoroso. Non si sa, almeno io non lo so. Ebbene, ebbene, Piero Manzoni. Chi era Piero Manzoni? Chi era Piero Manzoni? Un artista lombardo, che è nato e poi è anche morto. Però, povero sfigato, è morto a 29 anni. Quindi, da una parte, anche il successo della sua opera non ha potuto, appunto, non se l'è potuto godere appieno. Ecco, ho fatto. Ma... Finita di merda. Ho provato a non dirlo fino ad ora, ma adesso porto l'opera. Prego. Troppo 30 secondi. Ecco. Ho resistito un po', vabbè. Ebbene, allora, però, entriamo nello specifico. Cioè, merda d'artista, Piero Manzoni, ma che ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto Manzoni? Questo geniaccio, cosa ha fatto? Nel 1961... In pieno boom economico, ricordiamolo. Che ha fatto? Ha preso 90 barattoli di latta, tipo i barattoli di carne, di carne in scatola, in sostanza. E li ha etichettati, con delle scritte in varie lingue, addirittura numerati, quindi è stata un'opera seriale, numerati da 1 a 90, e appunto li ha messi in commercio. E fin qui tu dici, vabbè, ah, ok. Mi pare folle, direi. Intanto, scusami, ma Mauro Vianello, da Instagram, ci dice, l'ho fatta anche io in vetro. Quindi, se ci mandi una foto, può essere interessante. Magari no. Andiamo avanti. Ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è che ha preso questi 90 barattoli, li ha etichettati e li ha messi in commercio. Ma in realtà, appunto, bisogna entrare nello specifico. Cosa c'era dentro questi 90 barattoli? Cosa c'era? Allora, lui li ha intitolati la merda d'artista, quindi si fa, appunto, si può intendere che dentro ci sia. Esattamente. Però, in realtà, appunto, vabbè, a parte questo tipo di produzione, anche da parte dell'artista, immagino avrebbe richiesto un grandissimo sforzo, ma io suppongo... Mi ero ripromesso di rimanere serio in questa puntata. No, io suppongo, appunto, che non sia realmente il contenuto che è dichiarato sull'etichetta, non ci sia realmente quello. Si vocifera che potrebbe essere del tonno o della carne. È andato a male, immagino. Esattamente, ormai è andato a male. Oppure, oppure del gesso, del gesso per rendere, appunto, la scatola pesante. Il gesso, il gesso l'ha detto il suo amico Buonalumi. Buonalumi ha detto, io vi dico, dentro c'è gesso, non rompeteli i coglioni. Ve lo dico io. Pensavo di gesso e mobbaista, come dici di solito. Invece no. Però, appunto, c'è un mistero attorno a questa cosa. Perché, appunto, se si apre la scatola, si perde il valore dell'opera. Quindi è furbo. È furbo. Infatti, per quello dicevo che è un genio. E, perché, poi, parliamone anche. Quanto vale quest'opera? Prova a dire, quanto vale? Come ha fatto a valutarla? Un baratto di 50 euro? No, ma è no. 100 euro? Di più, ragazzo mio. Perché, allora... Mille. Vabbè, adesso... Basta, mi fermo. No, questo genio cosa ha fatto? Il baratto le dà 30 grammi. E lui l'ha valutato come se fossero 30 grammi d'oro. Quindi si partiva già lì da una cifra piuttosto alta. Ma poi, nel tempo, è diventata un'opera molto famosa. E all'asta è stata venduta, ultimamente, nel 2016, mi pare, a 220 mila euro. A Milano. Benissimo. Ti chiedo scusa, volevo dirti che Mauro Vianello, sempre da Instagram, dice che le foto della sua cacca in vetro la puoi trovare anche sul suo profilo. La mia l'ho messa dentro un barattolo trasparente con coperchio e si poteva vedere. Eh, allora si perde tutto il significato concettuale, il significato che c'è a monte. Mi sa che la cacca di Vianello costa molto meno, mi spiace Vianello. Ebbene, appunto, a proposito di significato, bisogna parlarne. Perché dietro a quest'opera, chiaramente, c'è un significato. Parliamone, non dobbiamo, ma parliamone. Tra le più interessanti, tra le più interessanti interpretazioni che sono state date, appunto, è la prima, è una visione poetica dell'opera. Ma perché? Perché, praticamente, può essere vista come una cessione di sé. Cioè, l'artista cede qualcosa di sé agli altri. È una produzione conto terzi, potremmo dire. Un'opera anche di bene, un'altruismo. Cioè, cede qualcosa di sé. C'è altruismo, vero? Sì, oppure, oppure, c'è anche dietro il significato che il mercato contemporaneo attuale, qua sembra che si passi sul serio. Ma non è così. Ma non è così. Il mercato contemporaneo attuale accetta la merda. Basta che sia firmata dall'artista o messa, appunto, in serie, numerata in serie, e il mercato attuale accetta tutto, praticamente. Quindi questo ha un significato un po' più serio. Oppure, la terza, era... Più seria ancora? No, questa è discutibile. Che quest'opera sia vista proprio come l'emblema della produzione artisti. La produzione. La produzione dell'artista. Hai detto quattro volte. Abbiamo capito. Volevi dire produzione. Abbiamo capito. La produzione dell'artista. Proprio vera e propria. Non con le mani, ma... Vabbè, ne ho capito. Quando si dice un lavoro fatto con il culo... Gesù Cristo. Bene. Bene. Puntatona, puntatona. Qui abbiamo puntatona, eh. Hai due minuti e mezzo per chiudere. Guarda. Direi che abbiamo già sofferto ogni limite. Direi che si chiude già da sé. Ci abbiamo messo tre puntate per arrivare già al tema più caldo dell'estate. Ecco, benissimo. E niente. Cioè, in realtà, queste sono le informazioni che si possono dare riguardo alla merda d'artista. Ce ne sono 90 versioni. Che sono distribuite nel mondo. Sono conservate da collezionisti. Non li trovate sugli scaffali, eh. Eh, no. Collezionisti, musei. E niente. Questa è la storia della merda. Se volete saperne di più, potete contattare i parenti di Manzoni e reperire un barattolino per voi. Potrebbe sempre fare la sua figura, porca figura, sui vostri scaffali di casa. In bagno, magari. Non lo so. Forse no. Va bene. Grazie mille, Elisabetta. È stato bellissimo. Queste arte. E anche queste arte. E così. Ecco, ha inviato la foto. Via Nello. Andremo a vederla. Mandacela su la diretta Facebook, così, diciamo, rendiamo tutto più virale. Ciao Solid Maker, lo salutiamo. Ciao Simo. Bene, direi che ci siamo. Grazie mille. Grazie a te. Quasi quasi facciamo già la prossima puntata per scadere ancora. No, perché lui vuole sempre fare altre puntate, ma io devo cambiare l'outfit, se no non si può fare. Ah, se non si cambia l'outfit, non si fa niente. Quindi stasera. Allora, stasera, niente. Andiamo a vedere Umbria Jets. Grazie a tutti. Ecco. Alla prossima.